Anche d'estate quando fa caldo, soprattutto in spiagge, qua su si sta bene, no? Beh, se vieni su la mattina presto qui, si sta bene adesso che sono le 11. Qua c'è l'inizio del singletrack, vedi, Corti Manso, Soverino e Coesera, tre ore. Procediamo sul singletrack così, boh, un chilometro, in falso piano. L'hanno aggiustato, adesso è più pedalabile. Poco più avanti ci fermiamo al primo tonante. Ok, via, al tonante. Ottimo lavoro che stai facendo. Bravo, bravo. Si si. Bravo, bravo. Ma adesso sono quasi troppo facile. Adesso c'è una specie di scivolo per arrivare alla strada. Fino alle piogge bisogna fare solo la parte sotto, perché sopra è troppo facile. Mentre invece qua rimani più bello, più tecnico. Guarda me, guarda me. No. Stiamo facendo la discesa in bici. Vedi la bella casa che hanno qua, no? Con il pavimento in granito. Questi sono i maiali. Dai, 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 dai. No. bravo no quando è tutto spianato con la sabbia è troppo facile basta aspettare le piogge no? adesso ci sono ancora dei tonanti ma soprattutto ci sono adesso delle scalinate di radone più tecnico fino alla rilare del ponte bravo 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 Grazie a tutti. Cazzo, senti la forcella lavorare, eh? Grazie a tutti.